Allora, visto il successo meritato per un avversario pericoloso, quanto pesano questi punti? Sono tre punti, come del resto di tutti gli altri, una partita che si è messa bene, ma abbiamo rischiato tante volte di poter essere ripresi. Poi, io credo, dopo sul 2-0 la squadra mi è piaciuta molto perché abbiamo tenuto il campo, l'abbiamo portata a casa anche con tanto sacrificio perché la nostra condizione non era al meglio. Abbiamo visto una bella crema, la pressione psicologica della gara contro il Bordenone non dà un ricordo, così come lo scivolone di Pisa. Aveva chiesto un ultimo sforzo e la squadra ha risposto presente. Dopo Pisa avevamo un gradino veramente molto alto da superare perché la partita di Bordenone, che sembrava così tanto semplice, ma veramente ci ha tirato il collo e si era complicata. L'abbiamo ripresa con il cuore, con grande qualità e poi venire qui, Ferrara è una squadra in salute, anche di qualità e vincere è sempre veramente molto molto difficile. Sei punti fra Pordelone e Spalli in pochi giorni su un oro polato per questa crema. Passare l'ultima sosta della stagione in cima alla classifica dà ancora più consapevolezza e autostima in vista del rush finale? Ormai parlare della classifica in questo momento è una partita in più che abbiamo vinto. Mi piace pensare così, ragionare in questo modo e adesso recuperiamo, almeno per quelli che abbiamo, qualche energia e poi si riparte per l'asce finale.